Bella raga, oggi continuiamo con i nostri video di Minecraft Avrete sicuramente notato che mi sono fatto un po' di utensili in ferro E adesso Voglio spostare la mia coltivazione Giù a valle l'affaro Mi sa che ho un po' esagerato Dovevo prima prendere tutta l'acqua Infatti ho fatto una gran scienza Prima di prendere tutta... Ah, c'è ancora carne che cuoce Allora, secchie I miei oggetti in legno E anche del legno diabete Che mi può sempre servire No, dai La mia terra Che scemenza che ho fatto Nooo Aiuto No, basta Vedi, prendere un mio legno Basta A presto Allora, dobbiamo iniziare a studiarci nel nostro bel campo, non so neanche dove farlo, va bene, intanto risaliamo su, va bene, prendiamo questa legna, si è messa proprio per la fregna, si è messa proprio per la fregna, si è messa proprio per la fregna, potremmoک si è messa proprio, va bene, prendiamo la fregna da dare uno, coli la foglia che sparisca coli la foglia che sparisca e una forza questa ascia di ferro e inizio a spianare coli la foglia che sparisca prendiamo tutti questi arboscelli la mele strano non le trovavo così più la mele ci abbiamo già 45 blocchi di legno di quercia grezza la mele Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno, non so ancora... Ecco, lo faccio qua, il mio supercampo. Adesso spiano un po'. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso... Facciamo subito... E prendiamo la nostra crafting. E adesso facciamo le staccionate. Facciamo così... Allora... 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 Solo 14... Allora... 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 Grazie.